Spaccio di droga e furti di olive, diversi gli interventi dei carabinieri ad Andrea negli ultimi giorni. I militari hanno arrestato due fratelli andriesi di 60 e 50 anni per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio. I due sono stati sorpresi in casa con 61 dosi di cocaina. I carabinieri hanno fatto irruzione nella loro abitazione al termine di un'attività di osservazione, controllo e pedinamento che ha portato i militari ad effettuare una perquisizione domiciliare, con il sospetto che potesse esserci la base di un'attività di spaccio. Sospetti confermati durante il controllo in casa, i due fratelli hanno provato a disfarsi di un involucro buttandolo nel water, ma i carabinieri sono riusciti comunque a recuperare la confezione ed accertarne il contenuto. 61 dosi contenenti cocaina durante la perquisizione sono stati trovati e sequestrati un bilancino di precisione, ritagli vari di buste in plastica per il confezionamento della droga e la sostanza da taglio. Per i due andriesi sono scattate quindi le manette portate nel carcere di Trani. Il GIP ha poi convalidato l'arresto. Carabinieri di Andria intervenuti nelle campagne federiciane per furto di olive, in questo caso con il prezioso contributo delle guardie campestri, quest'ultime durante un pattugliamento in contrada macchia di rose, hanno notato due soggetti intenti a rubare olive con l'utilizzo di teli, mazze ed altre attrezzature. Alla vista delle guardie i malviventi si sono dati alla fuga in auto provando a far perdere le proprie tracce. Ne è nato un inseguimento lungo la SP2 concluso l'altezza della rotatoria per la borgata di Montegrosso. Si trattava di due uomini di nazionalità extracomunitaria giunti da Borgo Mezzanone alle porte di Foggia per rubare le olive. Fermati sono stati poi consegnati ai carabinieri intervenuti sul posto per supportare l'inseguimento delle guardie campestri, intervento concluso con successo, l'ennesimo furto d'olive sventato nelle campagne andriesi.